Hello guys e benvenuti in questo nuovo video con questa decklist dedicata al formato Edison, finalmente potrebbero dire alcuni, più precisamente ai custodi di tombe. Vi tenevo a portare queste profile per diversi motivi. Punto primo è uno dei mazzi preferiti di mio amico, nonché uno degli admin del server Discord, che a proposito potete trovare qui sotto in descrizione caso che vogliate accedervi e farne parte. Punto numero due mi è stato chiesto da voi nei commenti e, collegato in un certo senso a questo, terzo punto, non meno importante, il video sorge un po' da un quesito che mi è stato fatto appunto da voi, dove mi è stato chiesto se il mazzo in questione fosse più forte nel formato Edison o nel formato Tengu. Conoscendo abbastanza bene i due formati, la risposta è abbastanza palese, scontata, ma è dovuta principalmente ad un singolo motivo. Prima di continuare però, se non sei iscritto al canale e ti piacciono questo tipo di contenuti come deck profile, unboxing di prodotti vintage e tutto ciò che riguarda il retroformat, Time Windsor come diamine vogliamo chiamarlo, ti invito a lasciare un mi piace, un commento e soprattutto iscriverti al canale. Molti di voi non sono iscritti al canale ma guardano i miei video, quindi se ti piacciono i miei contenuti perché non iscriverti quando è gratis è un click che soprattutto supporta notevolmente il mio lavoro qui su Europe. Detto questo ritorniamo al quesito prima proposto. Perché il mazzo GK è più forte nel formato Tengu? Per quanto vi siano nuovi supporti per il mazzo come la bacchetta miracolosa, Pot of Duality che rende il mazzo notevolmente più stabile, soprattutto il reclutatore che è una nuova carta fortissima di archetipo dedicata ai GK, la differenza abissale fra i due formati è l'errata di Necrovalle. Ebbene sì, nonostante siano temporalmente abbastanza vicini i due formati, l'effetto ha un peso ben più impattante nel formato Tengu. Come riferimento, nel formato Edison la versione di Necrovalle corretta è quella da Turbo Pack 02 con il seguente effetto. nega gli effetti di magie, trappole ed effetti mostro che bersagliano, fate attenzione, bersagliano una o più carte nel cimitero di qualsiasi giocatore. Le carte nel cimitero di entrambi i giocatori non possono essere rimosse dal gioco. Tutti i mostri costruiti di tombe guadagnano 500 d'attacco e difesa. Questo cosa significa? Che dà fastidio a mazzi come Bioturbo per esempio, tuttavia carte come Rekindling e la mia Crash ad esempio possono tranquillamente attivare e risolvere i propri effetti, dato che non bersagliano. Ah, faccio solo eh! Facendo invece riferimento al formato Tengu, l'errate è decisamente più prepotente e per davvero Necrovalle diventa tale di nome e di fatto. Tutti i mostri custodi di tombe guadagnano il 500 di attacco e difesa e siamo contenti. Poi, le carte nel cimitero di ogni giocatore non possono essere rimosse, quindi fin qui tutto uguale, tuttavia, continuiamo, nega ogni effetto carta che farebbe spostare una carta nel cimitero, eccetto se stessa, in un posto diverso. Quindi l'unico posto in cui lo prendete è proprio ECCULEECCA! Capite bene dunque che tributo reale che c'è forte di per sé nel formato Tengu format ha un impatto decisamente maggiore rispetto ad Edison visto l'errata del Necrovalle. Quindi, considerato il nuovo testo, le carte prima citate per fare l'esempio non potranno nemmeno attivare i loro effetti. Questa è la differenza sostanziale per cui GK in Edison risulta nettamente inferiore rispetto al formato Tengu e caso che vogliate una decklist dedicata a quest'ultimo formato fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Torniamo però alla nostra lista Edison format. Concettualmente il custode di tombe può essere considerato una sorta di antimetra che, come vi dicevo prima, può dare fastidio a massi come Vaio Turbo e a parer mio può sfruttare carte estremamente fastidiose come i Virus, Skill Drain ma soprattutto Royal Oppression. Partiamo quindi con la decklist. Abbiamo tre spie che non capisco il motivo per cui non abbiano chiamato questa carta reclutatore effettivamente è un recruiter e sarebbe più consono con il design meccanico della carta ma ok e tre discendenti che sono considerati nel formato Edison un engine all'interno appunto del formato e ribadisco engine non engine poi abbiamo tre comandanti che sono potenzialmente dei bitoni da 2100 ma li useremo ovviamente principalmente per addarci il necrovalle che è tipo il core del mazzo per rompere i poi due assailant un gale che potrebbe essere considerato uno dei tuner più versatili del formato livello 3 oscurità ci dà accesso ai sincro all'interno del mazzo anche se appunto non è che andiamo così tanto a sfruttarli può essere utilizzato ovviamente per dimensiare attacco e difesa e soprattutto ci dà accesso ai sincro appunto alla nera che diciamo non sono proprio così schifosi poi gioco due kaius e obiettivamente nel formato Edison secondo me i monarchi in generale sono veramente rotti in vista anche dell'assenza di effect veiler considerando che giochiamo appunto le tre spie per me è stato quasi obbligatorio inserire due kaius troppo troppo forte all'interno del formato in doppia copia e gioco poi una morphing jar perché palesemente questo mazzo è uno dei classici da setto un mostro setto 5 e passo per le magie incredibili abbiamo tre necrovalle doppia stele nel 2011 potreste ritrovarvi con alcune liste che giocano monostele ma secondo me ha più senso averne due nel formato Edison per il semplice motivo che qui abbiamo tre discendenti quindi andiamo a sfruttare parecchio il suo effetto dato che appunto come vi dicevo prima i mostri principali sono loro due e soprattutto in vista dell'assenza cioè non è che c'è l'assenza però Raio è meno predominante in questo formato di conseguenza scartare col comandante diventa molto più facile ed è anche più facile recuperarci un po' il custodio di tombe che ci serve diciamo in quel determinato momento poi tre Royal Tributs il Tributo Reale che ero anche tentato di giocarlo a due tuttavia sono andato con la classica logica del prima la vedo meglio è e ripeto a differenza del formato Tengu è meno impattante tuttavia risolto ugualmente una carta decisamente forte non solo per l'effetto del scartare o dell'avversario ma perché possiamo vedergli praticamente la mano e vedere come gioca caso che soprattutto dovessimo partire per primi poi due libri della luna che prima giocavo a tre ora ho portato a due che possono essere usati sia in maniera offensiva che difensiva e magari crearci una sorta di loop continuo con le spie caso che fosse necessario ovviamente tutto situazionale vi indico semplicemente alcune possibili e potenziali situazioni all'interno del gioco Reincontro che ne parliamo a fare Allure of Darkness dato che i nostri mostri sono principalmente oscurità tranne il Comandante e la Jarrah e Tifone che ahimè è limitato e come potete vedere non gioco Tempesta Potente di Mane in vista delle numerose trappole come appunto Royal Oppression che è uno dei ma... per fortuna e sfortuna è uno dei mazzi che se la può permettere una delle carte più distruttive del formato e caso che stiate cercando di montare custode di tombe in real e non abbiate diciamo accesso alla Royal Oppression che indubbiamente è una delle carte più costose all'interno del formato potreste pensare di giocare altre carte al suo posto e non a caso vi ho messo qui delle possibili soluzioni come appunto la trappolina qui in cui mi sfugge il nome in italiano che praticamente è come se fosse un reborn trappola esclusivo per il custode di tombe che ignora diciamo gli effetti di Necrovalle permettendone appunto l'uso che potrebbe scompare bene per l'appunto con il discendente oppure io diciamolo impostato in maniera un po' più cacacazzo anti-meta per non intenderci potresti pensare di giocare sia la due skill drain di Mane perché sono fortissime o semplicemente due Candice Chain o se vogliamo andare ancora più sul semplice potreste pensare di giocare altri custodi di tombe come per l'appunto quello da 1009 in difesa oppure se siete spicy perché no il visionario continuando diciamo abbastanza standard come mazzo abbiamo due bottomless doppia prison che porterei anche tranquillamente a tre per l'appunto vedetevela voi con l'eroe d'oppressione due starlight necessarie uno contro Blackwing due per il fatto che giochiamo numerose carte trappola o quantomeno dobbiamo avere quasi sempre necroalle sul terreno potresti appunto anche pensare di inserire anche dark drive all'interno del mazzo mirror force solo in judgment torrent e ovviamente task shot side anche abbastanza standard abbiamo due cyber drago due pachicefali ovviamente non ci sta il corvo DD dato che sarebbe un po' in contrasto con la necrovale non avrebbe senso tempesta potente che ho deciso di metterla in side assieme a due twister per la paura di trovarmi contro magari una Royal Decree perché è abbastanza forte contro questo mazzo poi tre virus perché se li può permettere tranquillamente in vista di necrovale che ci pompe il nostro gk due tirare il tre tirare il tappeto scusate appunto le skill drain che vi accennavo prima poi extra deck abbastanza standard l'ho fatto anche un po' a caso onestamente però vedetevela voi abbiamo katasso antico drago fatato l'Arcanic Magician che potreste anche pensare di portarlo a due che è veramente forte l'Armory Armin Blackroost dobbiamo essere matura alla nera e diciamo i Star Wars Dragon io quindi ti ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto e ti ricordo ancora una volta di iscriverti e seguirmi sui miei social qualora tu non l'avessi fatto e fallo così almeno inizio ad usarli un po' di più siamo molto vicini ai 3500 iscritti e prossimo video vediamo di fare una decklist dedicata al Naturia per il formato Tengu visto che stanno arrivando le ultime carte per il 3500 o per il 4000 vediamo di fare un piccolo speciale appunto sul canale facendo un unboxing un po' più particolare qualche decklist non lo so vediamo cosa fare quindi grazie ancora per aver guardato il video fino a questo punto e see you next time piu